Questa è semplicemente un'emozione, è l'emozione della musica, è lo strumento che si fa a viaggiare. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. A partire da questo momento, poi, viene in sottile. La tecnologia riserva grandi sorprese. Oggi, grazie a Federico, vi presentiamo il cellulare... Dove il sottoscritto farà una fila per Federico. Accendi qui. Amico, mi devi riprendere. Non so capace a scrivere città. Ma non so capace, ma è schifo. Come si fa a scrivere qui, Pippo?